L'opposizione annuncia una pioggia di emendamenti, su tutto, dagli aspetti economici a quelli amministrativi e ambientali, ma il testo del decreto Salva Ilva approvato al Senato e arrivato a Montecitorio sembra essere blindato. Il provvedimento di cui si è cominciato a parlare nelle commissioni riunite, ambiente e attività produttive della Camera con molta probabilità filerà dritto in aula a metà settimana per vedere in breve tempo l'approvazione definitiva. Il decreto scade il 6 e quindi i termini per la conversione sono tali che la Camera avrà un ruolo in questo caso marginale rispetto al precedente decreto Ilva sul quale ci eravamo trovati a parti invertite. Ma ci sono dei punti sui quali lo stesso PD ha ammesso si sarebbe dovuto fare molto di più, sull'incremento dell'organico dell'ARPA, l'Agenzia regionale dell'ambiente per esempio, e un provvedimento su questo potrebbe arrivare con un collegato ambientale successivo all'approvazione del decreto. Quest'oggi da parte del sottosegretario Claudio De Vincenti c'è stato un impegno formale da parte del Governo ad assumere nel primo provvedimento utile quelle misure tese a potenziare l'organico dell'ARPA Puglia.